Serve un impegno corale su un tema rispetto al quale a parole siamo tutti quanti d'accordo e convinti, ma nei fatti occorre proprio un impegno corale e una presa di posizione forte. Il sindacato la sta mettendo in campo oramai da tempo, occorre che anche i livelli istituzionali, le imprese si convincano di mettere in campo una grande strategia per fermare questa strage silenziosa e morti sul lavoro. Francamente inaccettabile e non degna di un paese civile e democratico. Per quanto ci riguarda l'iniziativa di oggi della CIS Palermo-Trapani, un'iniziativa molto importante non solo per sensibilizzare, ma anche per mettere ovviamente al centro l'impegno del sindacato su questo tema, rilancia fortemente le nostre richieste. Quelle di avere delle aziende di qualità che si confrontino su questi temi e li mettano in campo, di una formazione importante e preventiva sui luoghi di lavoro, di una forte rappresentanza degli RLS e di un fattivo impegno degli stessi dentro le aziende, di investimenti importanti rispetto alla riqualificazione, alla formazione, ai dispositivi di sicurezza, di una riforma concreta e coordinata degli istituti di vigilanza a partire dagli ispettorati del lavoro e, come abbiamo sempre detto, di far diventare il tema della sicurezza un tema centrale anche nella cultura e quindi nelle scuole. Da questo punto di vista, quindi, continua il nostro impegno che non si fermerà fino a quando questo, che non possiamo più chiamare un fenomeno, quello che possiamo chiamare veramente una mancanza di dignità e di rispetto delle persone e del lavoro, non venga assolutamente arrestato.